Benvenuti in un viaggio che trasformerà il vostro rapporto con la ricchezza e l'abbondanza. Molti di noi portano con sé convinzioni limitanti sul denaro, spesso radicate nel nostro subconscio. Questi blocchi mentali possono ostacolare la nostra capacità di prosperare e raggiungere la vera abbondanza. Ecco perché è nato il programma Supera i blocchi sulla ricchezza e sviluppa una mente di abbondanza. Un percorso pratico in otto moduli che lavora sulla ripulitura e deprogrammazione dei blocchi a tutti i livelli. Che tu sia un principiante o un esperto nel mondo del self-help, questo programma è stato creato pensando a te. Ogni modulo si dedica a una disciplina specifica che ti permetterà di agire su tutti i livelli della tua mente, conscia e subconscia. Sei pronto? Sei pronta a iniziare? Unisciti a noi e cambia la tua vita ora! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!